e lo medioevo quando c'era lo spettacolo con lo poco per le streghe non era mai troppo poco lo giullare doveva dimostrare a tutto lo popolo che lo poco era vero e molto pericoloso per fare questa dimostrazione lo giullare doveva tirare le torce contro tutte quelle persone che non facevano un grande applauso la verifica sulla pericolosità del fuoco funziona sempre signori e signori prima di continuare questo spettacolo vi volevo raccontare una breve storia come ho detto prima vengo dalla Romagna e il venerdì prima di arrivare qua in Sicilia mi sono fermato dalla mia famiglia e gli ho fatto vedere quello che sapevo fare gli ho fatto vedere questo gioco qua e sapete che ha detto il mio papo? Fai gli allestini e ti farò un grande applauso ma lì c'era anche la mia mamma e ho fatto vedere anche a lei quello che sapevo fare vi ho fatto vedere questo gioco qua e sapete che ha detto la mia mamma? fai allestini e ti danno bravo anche non ho vinto non soddisfatto sono persino andato dalla mia fidanzata gli ho fatto vedere anche a lei quello che sapevo fare gli ho fatto vedere questo gioco qua ho 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 E sapete che adesso l'abbiamo fidanzata? Vai Alentini e restoci!